Una donna è in un negozio di abbigliamento quando vede un altro cliente che sembra aver rubato uno slip dal negozio. È indignata per quello che sta vedendo, ma il ladro non si rende conto che qualcuno sta vedendo quello che sta facendo e continua a guardare i vestiti come se nulla stesse accadendo. Arrabbiata per la situazione, la donna va a parlare con il proprietario e denuncia il ladro, dicendo di averla vista rubare uno dei suoi vestiti. Il proprietario del negozio si avvicina al ladro e le chiede di accompagnarla perché aveva bisogno di perquisirla. Il ladro dice che c'è stato un errore e spiega solo al proprietario cosa stava succedendo. Dopo aver sentito cosa ha da dire il ladro, il proprietario del negozio capisce, si scusa con lei e torna al lavoro. Questa situazione lascia la donna molto confusa, guarda e guarda.